Una nuova ricerca del nuovo saline Onlus riguarda proprio l'interazione fra gli insetti e le onde elettromagnetiche. Allora spieghiamo un po' in una situazione immersiva, noi siamo tra tantissime tipologie di onde elettromagnetiche, cellulari, radiofrequenze, televisioni, satellite, come si comportano gli insetti con questa sovraesposizione? È un tipo di ricerca molto complessa, proprio perché sia la tipologia di inquinanti sotto forme di onde elettromagnetiche, sia l'intero universo entomologico, quindi quello degli insetti, ha una vastità immensa. Quindi di conseguenza il primo tratto della ricerca è stato quello dell'isolare determinati tipi di frequenze, che erano poi quelle riconducibili al discorso del 5G, e scegliere una tipologia di insetto che fosse rappresentativa su una scala più ampia possibile. Così abbiamo scelto una specie appartenente alla famiglia dei blattoidi, in quanto sono in natura tra gli insetti più resistenti, resistono alle radiazioni, resistono all'inquinamento chimico e a molte contaminazioni microbiologiche. Quindi possiamo dire, in un modo abbastanza semplicistico, che sono tra gli insetti più resistenti in natura. Fare una sperimentazione, quindi, sugli effetti su questa tipologia di insetti era una sorta di indicatore biologico per capire come si sarebbero ripercosse in modo amplificato sulle altre specie di insetti. Cosa avete scoperto? Come reagiscono le blatte, insomma scarafaggini, senza disprezzare questa specie però molto comune, sono resistenti ai pesticidi, spesso le toglie da tutte le parti, hanno la loro importanza, ovviamente in un ecosistema come quello urbano, ma cosa accade con le potentissime onde elettromagnetiche dei cellulari di nuova generazione? Abbiamo immerso questi esemplari all'interno di queste onde, con una frequenza appropriata e gestita all'interno comunque di quello spettro di radiofrequenza, che comunque è proprio quello di questo tipo di nuova tecnologia. La cosa che abbiamo notato nell'immediato è stato un cambiamento comportamentale contrario all'etologia di questa specie. Faccio un esempio, sono animali lucifughi, cioè praticamente scappano dalla luce ed è una forma di difesa che comunque si è elaborata in anni di evoluzione. Nell'istante in cui vengono immersi all'interno di queste onde, automaticamente perdono questa abitudine per una forma di innervosimento, diciamo, e praticamente abbandonano questo tipo di abitudine, cosa che comunque gli espone ai predatori o al tempo stesso a migrare, quindi espandere la loro presenza in altre aree, andando poi a alterare quella che è la catena trofica dell'intero contesto entomologico. Hanno smesso di riprodursi, hanno smesso praticamente di compiere determinate funzioni biologiche comuni, come potrebbe essere quella dell'alimentazione. E questo vuol dire che se su un insetto del genere riusciamo a interrompere fenomeni come riproduzione e alimentazione, vuol dire che creiamo un'interruzione nella catena ecologica. Nell'istante in cui ricreiamo un'interruzione nella catena ecologica, le ripercussioni vanno parallelamente a ripercuotersi sull'intero scibile biologico. Quindi immaginiamo cosa può accadere a popolazione umana sovraesposta alle onde del 5G. L'aspetto più inquietante e interessante è proprio questo, cioè abbiamo scelto una categoria di insetti per la sperimentazione che sono i blattoidi, quindi di conseguenza una delle più resistenti in natura. Abbiamo utilizzato un'antenna di pochi centimetri e una carica elettrica molto molto ridotta. Se riesce un'antenna di queste dimensioni a generare questi cambiamenti comportamentali così drastici in una specie così resistente, un'antenna di 30 metri e una potenza di watt molto superiore, non possiamo sapere che cosa può generare, ma sicuramente sarebbe esponenziale in termini negativi in maniera praticamente molto determinante su quello che possono essere le funzioni biologiche anche di altre categorie animali.